Signor Sindaco Andreotti, innanzitutto buon lavoro per il suo incarico. Nel caso non ne fosse conoscenza, le faccio sapere che ecco qui, non funziona. E questo è strano perché per un'azienda efficiente come la CEA, qui la manutenzione si vede che non c'è, va bene, tanto le dovevo in questi primi 100 giorni di luna di miele. Buon lavoro di nuovo!